ciao 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 stelline come state? io ovviamente spero che fate tutto tutto molto 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 bene benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in un nuovo video allora faccio una premessa questo video lo sto registrando di pomeriggio quindi spero 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 con tutto il cuore che non sentirete rumori in tal caso cioè nel caso in cui ce ne siano troppi ovviamente taglierò quelli come sempre allora come potete notare è ritornato il Blue Yeti questo perché come avete detto dal titolo questo video sarà dedicato 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 ai mouth sounds e per farli risaltare ancora di più ho deciso di rimuovere momentaneamente la spugnetta e per questo lo vedete insomma così nudo e allora ho fatto un sondaggio su instagram e quindi ho chiesto quale quale mouth sounds preferite così da scegliere appunto quelli che gradite maggiormente e indovinate un po' indovinate un po' quale tra tutti è stato il più il più richiesto ovviamente ovviamente senza nessuna sorpresa per me il tone clicking ha stravinto ha stravinto qualcuno mi ha scritto anche di farlo più delicatamente possibile e io cercherò di non farlo troppo forte e poi diciamo ne ha scelti alcuni tra tutti quelli che mi avete chiesto ma li scoprirete durante questo video innanzitutto inizio con questo che piace tanto 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 a tutti 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 dopo magari intervallerò le mie chiacchiere perchè qualcuno mi ha detto ma mica fai solo mazza non stelline come sempre nei miei video ci saranno sempre le mie chiacchiere perchè sapete che non riesco a tacere per più di qualche minuto è il mio modo e anche perchè è in linea credo che sia perfettamente in linea ai vostri gusti perchè in passato le uniche due volte credo se non una sola io abbia provato a fare un video di solo suoni me l'avete boggiato quindi dopo vi dirò anche quale tinta la prendo so perchè sono sicura che me lo chiederete intanto io ci sto giocando non so se sentite il suono ogni tanto passa una moto come vi dico sempre soprattutto per i video così diciamo rilassanti perchè ci sono alcune tipologie che tengono più svegli tipo i try and haul o i video dei preferiti in questi video vi dico sempre che se vi va potete tranquillamente chiudere 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 gli occhi e ascoltare solamente la mia voce in questo caso anche in monso anche io lo gradisco naturalmente oh quanto i mouth sounds sono intervallati al whispering insomma mi rilasso di più un altro trigger un altro buzz che mi avete tanto chiesto sono cioè è il mio puff puff che farò accompagnato a il mio solito poppun è molto di più qué doesn't sweat can ho rincito t so zij pytanie hai pan le un po' e anche body questo è mio preferito buongiorno poi mi ha dichiesto anche intanto vi dico prima che mi dimentichi qual è la ditta labbra che sto indossando che me lo chiedete sempre questa volta sto usando allora vabbè non la finisce matta e si vede è il numero 05 di Astra e si chiama è no transfer è della linea comunque ipnotize dove vedete è del numero 05 matt che è un colore bellissimo credo sia il mio preferito dell'Astra non so se lo fanno ancora io ce lo do un po' vedete quanto è bello mi piace tantissimo il finish allora i suoni sono troppo forti tra l'altro voglio ringraziare ancora una volta Elisabetta perché mi ha regalato oltre tutti i regalini della wishlist che già mi aveva preso in precedenza mi ha anche acquistato la luce led colorata vedete io dietro ora ne ho una che è quella che avevo prima e l'ho messa in colore arancione e vabbè non vi sto qui a spiegare tutti i problemi nel senso per metterla per posizionarla perché essendo una sola come vedete non è che illumina bene alcuni colori non rendono molto a parte il viola e il blu che sono bellissimi tra l'altro il viola l'avete visto in un video ed era molto potente però me ne serviva un'altra per completare lo sfondo e me l'ha regalata quindi le mando ancora un bacione enorme la ringrazio solo che devo comprare una spina che si attacca ai fili perché queste luci vengono vendute senza la presa senza la spina e quindi devo procurarmi questa spina che mi serve e come è già stato fatto per la precedente luce che ho preso e voi che vedrete sicuramente vedrete molto 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 più spesso i miei sfondi colorati vedete come sflescia questo telefono montaggio un altro acquisto è la videocamera lo dico da un'infinità di tempo ma ora i miei soldini li devo assolutamente investire in un nuovo computer questa storia però ve la racconterò nel prossimo video della mia avventura con il computer e e niente quindi perché praticamente il programma di montaggio che utilizzo per montare video sia a premiere Adobe Premiere Pro mi ha fuso completamente il computer quindi ne dovrò comprare un altro di più potente e nuovo sperando che non lo bruci subito e quindi niente sto attendendo ma vi ripeto la storia di questo computer poi ve la racconterò e quindi niente la videocamera dovrà attendere ancora avrete a dirvi tante cose ma non posso solo parlare fare pochi mi riserverò per un prossimo video chiacchiere che arriverà presto ti metto ancora un po' della mia titta ho fatto tanto tempo che non ti trucco un altro video in programma che ripeto sempre saprei per il problema che ogni volta che mi avvicino a volte vedete mi da questo problema qui quindi mi nevasisco ogni volta che faccio i make up roll play e quindi li rimando ogni tanto lo fa ogni tanto no ovviamente fatemi sapere qual è il vostro mouth sound preferito tra quelli che ho usato quelli che ho fatto che sono il don't click che è il mio preferito che tutto e 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 poi è andato era il tico tico però lo riderei non per nulla cioè mi piace anche però sono subissata da sempre da commenti in cui mi viene detto che copio Chiara quando poi non è così anche se fosse che qualcuno prende ispirazione come hanno fatto anche con i miei video o come capita a tutti noi non cedete di male e però ogni cosa ma non solo da cioè non lo fanno solo con me con chiunque o qualsiasi cosa preoccupiamo da Chiara quindi mi astengo a fare il tico tico e poi mi avete chiesto anche sc 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 ma non credo di farlo bene e poi in realtà mi sono venuti in mente qualcuno qualcuno mi è stato suggerito altri mi sono venuti in mente di mouth sounds un po' più particolari però ci vorrei dedicare un video a parte che chiamerò tipo che chiamerò tipo mouth sounds insoliti cosa del genere e quindi per il momento ho fatto questi che sono un po' classici ah c'è un altro che però riserverò alla fine del video e vi saluterò così che sono i kiss sounds e mi avete chiesto di farli delicati quindi vi accontento e però li voglio riservare alla fine del video per salutarvi meno male che me ne sono ricordata poi mi piacciono quelli tipo i visuali che faccio a volte mentre parlo tipo questi questi piacciono tanto ma so che qualcuno può dar fastidio perchè sono tipo i suoni che si fanno mentre si mangiano mentre si mastica mentre si mangiano cioè o meglio possono ricordare i suoni che si fanno durante la masticazione so che a molti danno fastidio quindi li evito a me vengono da fare molto spontaneamente ma mi piacciono tantissimo questi grido che siano quelli che mi rilassano di più insieme al pot 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 soprattutto questi suoni li amo accompagnati alle carezze o insomma visual trigger poi non avete idea di come sento benissimo nelle cuffie cioè l'audio del bruyetti è assurdo prima un sound ma mi sa che poi quando trasferisco il file audio e muto il video perdi un po' ed è un gran peccato altrimenti vi sareste scioliti ecco magari intervallate il top clicking il flore tutto è che poi che è dec faccio un po' di kiss sans molto 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 delicati per salutarvi io mi scuso se ho parlato troppo, più del dovuto ma pensate che mi sono anche trattenuto perchè avrei sempre mille guardativi questi baci sono tutti 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 per voi questi bacini dolci potpii 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cinque fatti. Quanto vorrebbe avere più tempo? Non avete idea. Quanto vorrebbe avere più tempo? Quanto vorrebbe avere più tempo? Anzi, tanti, 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 t di fare per i sogni buonanotte buonanotte